i difetti della metropoli è abbastanza piccolo da avere tutti i difetti del paese questa è perfetta da raccontare, c'è tutto il male possibile però tu l'hai raccontato ultimamente anche in un documentario visto che tutto il male è tutto il peggio lo potremmo, lo sapete leggere nel libro, nel romanzo c'è un'altra cosa che vuoi dire? no no, no, nel senso che